Grazie Presidente. Io sarò molto breve perché ho letto con attenzione tutte e quattro le questioni pregiudiziali che di fatto si ripetono in buona parte per quello che è soprattutto l'asserito problema di non omogenità, di etereogenità del provvedimento. In realtà io ricordo a chi era in quest'Aula nella scorsa legislatura e a chi ci ha seguito e oggi siede in quest'Aula che noi abbiamo votato da questa parte contro ma dall'altra parte quelli che oggi presentano le questioni di pregiudizialità, di incostituzionalità hanno votato a favore di provvedimenti che riguardavano il Covid che hanno scarcerato ad esempio 223 boss mandandoli ai domiciliari nell'anno 2020 con la scusa della pandemia. Ricordo a chi se lo fosse dimenticato che negli anni 2020-2021 c'erano e sono usciti diversi articoli sulla stampa e tutti noi ci ricordiamo che c'erano i rave party illegali che erano considerati bombe pandemiche e c'era anche la richiesta di indagare sui soggetti che organizzavano queste rave proprio perché in pandemia costituivano una bomba pandemica. Allora che oggi mi si venga a dire che un provvedimento che riguarda la fine dell'obbligo vaccinale ma che riguarda anche il contrasto ai rave party illegali quindi a quelle che erano bombe pandemiche ha un provvedimento che cerca di mettere chiarezza anche sulla scarcerazione sulla scarcerazione fatta dalla vecchia maggioranza di 223 boss proprio con la scusa del Covid mi vengono oggi a dire ma guardate che non c'è omogeneità in realtà questo è l'unico provvedimento realmente omogeneo che cerca di mettere finalmente la parola fine a tanti piccoli provvedimenti presi sempre con la scusa della pandemia o non risolti come la questione dei rave sempre in periodo pandemico. Quindi riteniamo le questioni pregiudiziali per questo motivo palesemente infondate. Grazie